Più di 3 milioni entro Pasqua, le previsioni di consegna per questo trimestre invece riguardano 7 milioni di vaccini almeno. Abbiamo chiesto come regioni squadre di personale per somministrarli, spiega il presidente Toma dopo l'incontro col governo e la struttura commissariale nazionale. Se le consegne saranno rispettate e l'esercito dei vaccinatori sul territorio è incrementato, l'obiettivo immunità di gregge realisticamente si avvicina. Intanto da metà aprile sarà disponibile in Italia anche il farmaco Johnson & Johnson, una svolta logistica e gestionale visto che monodose non va conservato al freddo estremo. Roma ha bloccato invece gli acquisti in autonomia da parte delle regioni che come la Campania ma non solo in questi giorni hanno cercato o chiuso accordi per esempio sul vaccino russo Sputnik. Nella riunione alla cui fase iniziale ha preso parte anche il premier Draghi pure il confronto sulle riaperture chieste in particolare dai governatori leghisti e di centrodestra in generale. Un avvio di ragionamento su cui pure il presidente del Molise è d'accordo, tuttavia le aperture non entreranno nel decreto che dovrebbe essere domani all'esame del Consiglio dei Ministri. Sul fronte della sorveglianza epidemiologica il Ministero della Salute ha nominato con decreto i componenti del tavolo permanente istituito dal primo DPCM di Draghi del 2 marzo scorso. Si tratta di una cabina di regia snella che mette insieme esperti di ISS e CTS nazionale per esempio e quelli delle regioni per aggiornare o modificare i parametri di classificazione del rischio sui territori anche tenendo conto delle nuove varianti in circolazione. Nell'organismo, insieme fra gli altri al direttore scientifico dello Spallanzani Ippolito, è stato designato il professore molisano Giancarlo Ripabelli, epidemiologo dell'UNIMOL e coordinatore del comitato scientifico che supporta il governatore Toma nell'ambito dell'unità di crisi. La situazione è stata un po' peggiore rispetto ad altre regioni, però questo è un insieme di motivazioni.